Hakuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89, siamo tornati su Gansgore e cannoli Ragazzi ho un cannolo tanto oggi, vi ricordate che c'era lui? Perfetto Allora, non so il perché, ma ho tipo i frame, vabbè che tanto abbasta così sti cacchi Perché oggi vado a 30 frame e non so il perché, ok Welcome to the party, ok E ce ne andiamo per di qua Senti, ma tu sarai un po' pezzo di... eh, dentro Proprio dentro, dico dentro, no? Ok Madonna ragazzi A 30 frame rate non è facile, ve lo dico Madonna, ma chi è quello? Perché è quello che mi vuole tanto male? Non ho capito chi è Madonna ragazzi Mi stanno sfraccando il cu Ok Ok Ho preso anche le cose per il lanciafiamme È vero, c'ho anche l'arma definitiva, c'ho Ok Però senti, porca miseria, ma chi è quello? Chi è quello che mi fa perdere tutto questo tempo importante? Ok Però dovete morire Cioè questo lo dovete capire, dovete morire male Ma la finisce lei? Ma perché fa così? Ma non ho capito Guardi, le do anche Oh, oh Mortacci vostra Anzi no, mortacci tua Bastardo che non sei altro Aia Ho pochissima, pochissima vita Ok Ok Ah Ok Abbiamo preso il checkpoint per fortuna Ci abbiamo Aiaiai Incominciamo malissimo signora Longari Ok Madonna ragazzi Madonna ragazzi Che bella Bellissima Bellissima Ok Devo togliere Non è quella Madò È stupenda È davvero stupenda Un po' troppo dispendiosa per i miei gusti Però è veramente stupenda Ok Posso mettermi Questa Non è Cioè praticamente Aia Regà Questi no Questi no regà Vabbè Quello lo faccio Regà Ho tipo attivato tutto Madò Madonna mia Regà Ho attivato tutto quello che c'era da attivare Porca puttana È diventato difficile Ok Dai dai Topi Così Questi mortacci Loro sono una cosa Ok Ok Quindi queste le ho tirate tutte su Tiro lei Ok Ah È difficilissimo Non ve credete Oddio regà Ma io sto A preme veramente a culo Ok Ce l'ho fatta regà Cioè Almeno penso di avercela Fatta Però Mi servirebbe Ok Checkpoint Ce l'ho Madonna mia Sì Ah Un po' di calorie Perfetto Aia Sto cazzo Madonna Scommettete che è cominciato tutto da qua Quanto ci volete scommette Che c'è sta Tutta sta roba tossica Scommettiamo Madonna mia Bruciano anche loro Cioè Fate vedo conti Madonna L'isquaia Ok Bene così Lancia fiamme Purtroppo non ce l'ho Quasi più Però noi si procede Ok Con calma ragazzi Bravi così Bravi così Ah Mortacci tua Ma quindi Se io vado avanti Dovrebbe beccare anche lui Oh Dovrebbe beccare Anche lui si ma Mi ha rotto quasi tre quarti Quindi Insomma eh Insomma Ok Utilizziamo questo Che ci è rimasto poco E niente Ok Dottor Mai rotto le palle Dai un po' Si chiama proprio Dottore Hai rotto le palle Ok Ok Vai via Vai via Vai via Ah Porca miseria Ok Voglio sapere Chi cacchio è Che ha fatto Sta roba Un malato Porco due Madonna mia E la miseria Bello raga E' divertente Stiamo nella fabbrica De cioccolato De Willy Wonka Sei presente dove no? Ok Difficoltà Portami via Ok Oddio ragazzi Ce la stiamo facendo Impossibile Ok Oh mamma mia E' No Non sono un uomo di Franklin Franky 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 Ah Interessante Ok E beh che dici? Diversivo perfetto Andiamo bene Oh, seriamente? Cattivissimo È un personaggio cattivissimo il nostro Porco due che pezzo di merda Cioè, è giusto Perché anche l'altro è un pezzo di merda Ma porca miseria L'ha buttato dentro senza problemi Ok E cambiamo anche prospettiva Cambiamo un po' tutto E me sa che là Ok C'è anche No, non c'è una nuova arma Aspetta che voglio lanciare questa come regalo Ok Che posso mettere di bello? No, io metterei sempre questo Ma non mi ricordo mai Ok, perfetto Aia E ti pareva che me dovevano colpì? Porca miseria Ragazzi, insomma Che cos'è questo casino di qua? Ok, quindi Granate Perfetto Madonna che botta in faccia Che io ho tirato Ok Un attimo ragazzi E sono subito da voi Porca miseria Ok Questa l'abbiamo fatta Lei è cattivissima Togliamo il militare Togliamo lui Facciamo Esplodere tutto quanto Madonna le domatrici ragazzi Madonna ma quante ce n'erano Ok Quindi ci sta anche Una cosa che ci dice Che se siamo Sopravvissuti Scusa Invece che rompe le palle Ecco Dicevo No Ok Aia Lui potevo anche Togliermelo dalle scatole Magari anche prima Madonna Così si fa Bravo tu Bravo Ma una macchinetta per me No Fute 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 Ok Madonna mia Questi Tutti insieme Sono una rottura Di palle Ok Fute 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 Ok Vai così Opposto Signori Opposto Allora da qualche parte Io dovrò pure andare qua E mi sembra tanto che dovessimo Andare da questa parte Ah no Sopra Ok Perfetto Ma Non è sopra Ah Ok Dovevamo semplicemente andare da quella parte là Ok Ok Orca miseria Minchia ragazzi che giro che c'è sta C'è un giro impressionante ragazzi Un giro impressionante Signori io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua Se il video vi è piaciuto pollicione in su Commentate e condividete 15.000 like riusciamo ad arrivarci Al prossimo appuntamento Se non siete iscritti Ciao ciao